E adesso vi parliamo di un giovane talento del calcio, calcio calabrese, adesso in Argentina E' il secondo italiano che arriva nel Boca Juniors, pensate, Francesco è classe 1997, è nato a Ro, ma è cresciuto in Calabria I suoi genitori sono di Fuscaldo, dove lui è cresciuto tra parenti ed amici Già da piccolo si fece notare dalla regina, poi dalla Roma, poi è andato in Argentina insieme al papà Lo abbiamo intervistato in collegamento, facciamo subito, anzi lo salutiamo Ciao Francesco! Grazie Paolo, che bello essere collegati con la mia terra Francesco, come sei finito in Argentina? Perché nel 2009 mio padre lavorava qui in Argentina, allora ho dovuto trasferirmi qua con lui Ma tu in quale squadra hai già giocato? Ho iniziato a giocare a Fuscaldo, poi mi ha preso la regina, all'altro anno mi ha preso la Roma E dopo sono venuto qua in Argentina e sono stato in vari club e adesso mi trovo al Boca Juniors Francesco, come sei finito in Italia? Chi ti ha aiutato ad arrivare al Boca? Mi ha portato a fare un provino, un italiano-argentino, Silvano Pillani, che ha scoperto vari giocatori che giocano in Serie A e adesso è uno dei miei agenti Però al Boca Juniors già mi conoscevano perché mi aveva già visto giocare il coordinatore Cochirraffe Hai avuto problemi ad ambientarti? Un pochino all'inizio per via della lingua, però poi ho fatto molte amicizie e adesso mi trovo molto bene in questo paese Senti Francesco, ma tu torni spesso in Italia? Purtroppo non torno spesso perché sono molto impegnato con la scuola e con il calcio Dimmi, ti manca Fuscaldo? Certo che mi manca Fuscaldo, il paese, la marina, tutti gli amici che ho lasciato, la famiglia A quale giocatore italiano ti ispiri? Non mi ispiro a un calciatore in particolare, però se devo farti tre nomi, Totti, Baggio e Pirlo Tuo padre Serafino è un cantautore, vuole essere definito così, non cantante, cantautore E poi è affermato in Argentina, ti ha portato con lui in un paese straniero Se avresti voluto rimanere in Italia e quanto ti hanno aiutato i tuoi genitori ad emergere? Con il fatto che mio padre viveva in Argentina, io sono venuto in questo paese entusiasmato, senza rimpianti E moralmente lui mi ha sempre appoggiato Vorresti salutare qualcuno a Fuscaldo? Sì, saluto tutti i miei parenti, tutti i miei compagni di scuola, i miei amici e insomma tutto a Fuscaldo Ciao Francesco, ti aspettiamo in Italia Grazie Paolo, appena rientro in Italia questa maglia è per te I want to look at Junior Ok grazie, hola Francesco Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti